Siete rinco signor? Sì, cioè, no, insomma, così così. Ah, ecco, bravo, bene, benissimo. Siete saggio, eh? Sì, signore, ho sotto un pezzo di saggezza così. Vero, Enrico? Mi scherzavo. E dunque, amate questa facciglia. Sì, signore, anzi io vorrei sposarla, papà. Li sputavo dietro, come fa ogni donna. E così lui, rendendosi conto della lunaticità femminile, rinunciò alle frenesie del mondo e andò a rinchiudersi in un monastero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.